Ciao, oggi vediamo un nuovo argomento che è quello di bioenergetica e metabolismo. Per fare questo abbiamo bisogno di conoscere dei nuovi termini. Il primo, penso già comunque conosciuto, è quello di metabolismo, che rappresenta l'insieme delle reazioni che avvengono in un organismo. Il secondo termine è quello di via metabolica, che altro non è che è una sequenza ordinata di reazioni in cui il prodotto di una reazione rappresenta il substrato di quella successiva. Le vie metaboliche possono essere vie cataboliche o via anabolica. Via catabolica fondamentalmente porta alla produzione di energia e partendo da macromolecole come i carboidrati, i grassi o le proteine, porta a molecole povere di energia o molecole di scarto, come la CO2, l'H2O, l'NH3. Mentre la via anabolica, partendo da precursori, partendo da macromolecole, da monomeri delle macromolecole, come gli aminoacidi, i zuccheri, gli acidi grassi o le basi azotate, porta alla formazione di proteine, polisaccaridi, lipidi, attraverso l'utilizzo di energia sotto forma di ADP, ADP o altro. Le vie cataboliche sono convergenti, mentre le vie anaboliche sono divergenti. Esistono poi anche delle vie cicliche in cui uno dei composti di partenza viene praticamente rigenerato e rientra poi nella stessa via e queste appunto vengono definite come vie cicliche. Ricordiamo anche alcuni termini di termodinamica, come quello di entalpia, che altro non è che l'energia di legame, spero lo ricordiate dall'anno scorso, il termine di entropia, la misura del disordine, e il termine di energia libera di Gibbs, che è dato dalla combinazione di entalpia ed entropia attraverso questa reazione, quindi G uguale ad H meno T S, dove T è la temperatura espressa in Kelvin. Spero ricordiate che un valore di DG, di delta G minore di zero, indica una reazione esoergonica e quindi una reazione che produce energia, una reazione favorita, mentre un delta G maggiore di zero indica una reazione endoergonica che è una reazione sfavorita e che per avvenire ha bisogno di energia. All'interno dei sistemi biologici spesso si trovano accoppiate reazioni esoergoniche con reazioni endoergoniche, proprio perché con la reazione esoergonica abbiamo la produzione di energia, con la reazione endoergonica questa energia prodotta viene utilizzata e quindi anche la reazione endoergonica può avvenire. C'è però bisogno di una sorta di accumulatori di energia, in quanto nei momenti in cui avvengono le reazioni esoergoniche non necessariamente c'è proprio la richiesta di energia, per cui questi composti ad alta energia che vedete in questo disegno, in questo schema, permettono appunto di accumulare l'energia prodotta durante le reazioni esoergoniche per poi essere utilizzata al momento opportuno dalle reazioni endoergoniche. Quindi da questa parte vedete la reazione 3 e 4 con un delta G positivo e quindi reazione endoergonica. Qui reazione 1 e 2, è delta G negativo in reazione esoergonica. Le molecole che sono in grado di funzionare come accumulatori di energia contengono dei gruppi fosfato. Questo perché il gruppo fosfato, una volta che si stacca dalla molecola di partenza e quindi, diciamo, in un certo senso vive di vita propria, è una molecola abbastanza stabile in quanto è stabilizzata per risonanza, a quattro strutture limite di risonanza, per cui è una reazione, quella del distacco del gruppo fosfato, sicuramente favorita. Tra queste molecole ricordiamo innanzitutto l'ATP, che è appunto la molecola più abbondante e più diffusa in natura. la principale, si dice, molecola energetica che è presente appunto all'interno delle nostre cellule. La produzione di ATP può avvenire in due modi. Il primo è la fosforilazione ossidativa, che non vedremo in questo video. Il secondo modo invece è attraverso delle reazioni in cui un certo composto dà un gruppo fosfato all'ATP, come vedete in questa reazione, e produce quindi ATP. Questa è una seconda tipologia di reazione per produrre ATP. Diciamo che una piccola frazione di ATP viene generata in questo modo, perché la maggior parte viene prodotto con la fosforilazione ossidativa. però va studiata in ogni caso. Questa reazione, come potete vedere, ADP più fosfato uguale ATP, è una reazione endoergonica e presenta quindi un ΔG positivo, per cui per effettuare questa reazione sono richieste 30.5 kJ su mole di energia libera. Chi sono questi composti che riescono a donare il gruppo fosfato all'ADP? sono tre, e sono la fosfocreatinina, l'1,3-bisfosfoglicerato e il fosfoenolpiruvato. Questi tre composti presentano questo legame, che vedete indicato con la freccia, che è un cosiddetto legame ad alta energia, per cui la perdita del gruppo fosfato genera molta energia libera. Come avviene la perdita di questo gruppo fosfato? Attraverso una reazione di idrolisi. Vedete? Da questa parte è rappresentata l'idrolisi dei tre composti. Quindi, attraverso l'aggiunta di una molecola d'acqua, il gruppo fosfato, che vedete disegnato in rosso, si stacca, e poi questo gruppo fosfato può essere utilizzato dall'ADP per la produzione di ATP. La cosa importante è che il distacco del gruppo fosfato avviene tramite questa reazione di idrolisi, che, come potete vedere, è una reazione esuergonica molto favorita, quindi fortemente esuergonica, perché produce un'alta quantità di energia, una quantità che è decisamente sufficiente ed è ancora maggiore rispetto a quella che invece viene richiesta per la sintesi dell'ATP, in quanto per la sintesi dell'ATP servirebbero soltanto 30,5 Kg su mole e queste idrolisi invece ne producono ben oltre, per cui sono reazioni sicuramente molto favorite. Per questa ragione, questi composti, l'1,3 bisfosfoglicerato, il fosfenolpiruato e la fosfoglatinina, vengono anche definiti come composti ad alta energia. Infatti questo grafico è abbastanza esemplificativo perché fa vedere che il gruppo fosfato viene utilizzato nell'ATP e successivamente poi l'ATP dona il suo gruppo fosfato invece a composti di bassa energia, come ad esempio il glucosio 6-fosfato e il glicerolo fosfato. Ma questo lo vedremo in una seconda fase. E' da notare il fatto che l'1,3 bisfosfoglicerato presenta due gruppi fosfato, però soltanto uno è legato ad un gruppo carbonilico che svolge sul gruppo fosfato comunque un effetto induttivo, per cui è solo questo il fosfato che attraverso la reazione di idrolisi dona energia, può dare energia, mentre quest'altro, avendo gruppi carbonilici adiacenti, non presenta le stesse caratteristiche. Vediamo adesso quindi, dopo la sintesi dell'ATP, attraverso questa modalità, che cosa fa l'ATP? Allora l'ATP sappiamo che è una molecola che dona energia. Può farlo in due modi, o attraverso l'idrolisi o attraverso il trasferimento di un gruppo fosfato. Allora, l'energia donata dall'ATP attraverso l'idrolisi diciamo che non è una reazione molto diffusa, cioè in poche reazioni avviene, in quanto l'idroisi e l'ATP porta, sì, a un aumento dell'energia, ma più che altro sotto forma di calore. È comunque una reazione molto favorita per diverse ragioni, alcune delle quali le conosciamo già, in quanto l'aggiunta di una molecola d'acqua ad una molecola di ATP porta innanzitutto a diminuire notevolmente la repulsione elettrostatica tra i quattro atomi di ossigeno appunto caricati negativamente, in quanto il distacco di un gruppo fosfato abbassa la carica da meno 4 a meno 2, che non è poco. Inoltre, il gruppo fosfato che viene rilasciato, abbiamo già detto anche prima, viene stabilizzato per risonanza, perché presenta quattro forme limite di risonanza. Inoltre, l'ADP che si viene a formare si ionizza immediatamente e libera un H+, e infine un'altra ragione per cui questa reazione di idrolisi è molto favorita è il fatto che il prodotto presenta, il prodotto che si viene a formare di risolvatazione rispetto all'ATP. Quindi queste sono le ragioni per cui l'idrolisi dell'ATP è molto favorita. Vediamo invece anche il trasferimento del gruppo fosfato. Quindi l'ATP può donare energia anche attraverso un trasferimento diretto del gruppo fosfato. Un esempio è dato proprio dal passaggio, dalla reazione da glutammato a glutammina. Vista in questa maniera, cioè scritta in questa maniera, la reazione potrebbe sembrare a prima vista che il tutto avvenga in un unico step. Quindi il passaggio da glutammato a glutammina attraverso l'aggiunta di una molecola di ammoniaca con l'utilizzo di energia di una molecola di ATP sembrerebbe avvenire in un unico step. In realtà non è così, perché in generale sono due i passaggi che avvengono. Il primo è proprio il gruppo fosfato che viene trasferito dall'ATP al glutammato, come vedete da questa parte. e poi successivamente un secondo step in cui viene sostituito da NH3, come potete vedere, e il gruppo fosfato viene rilasciato. Quindi in realtà i passaggi per effettuare questo tipo di reazione sono due e di questa tipologia ne troveremo molte. Dobbiamo sempre ricordare che avvengono in due step e non in uno solo, come si potrebbe pensare inizialmente. Vediamo adesso come avviene quindi il trasferimento del gruppo fosfato. Fondamentalmente si tratta sempre di attacchi nucleofili. Che cosa vuol dire? Guardando questo schema vedete come questi composti scritti in blu vogliano rappresentare in generale i composti che reagiscono con l'ATP. ad esempio nel nostro caso il glutammato, nel caso che abbiamo visto poc'anzi. L'ossigeno attacca il primo gruppo fosfato, quindi il fosfato in gamma in questo caso, quindi l'ossigeno del carbossilato va ad attaccare il gruppo fosfato, il fosfato si stacca e si libera ADP. In questo caso quindi abbiamo avuto il trasferimento di un gruppo fosfato più una molecola di ADP. Possiamo avere anche un'altra casistica in cui la molecola attacca il fosfato in beta. In questo caso abbiamo il rilascio di un gruppo che viene rappresentato come PP, generalmente lo trovate scritto in questa maniera, è un gruppo che viene detto praticamente pirofosforico. Questo nel caso in cui l'attacco avviene sul fosfato in beta. Se invece avviene sul fosfato in alfa, addirittura abbiamo praticamente viene trasferito completamente una molecola di AMP più un PP, quindi un gruppo pirofosforico. E questa reazione viene detta anche adenilazione. Una volta che si viene a formare quindi l'AMP più il pirofosforico, il gruppo pirofosforico praticamente sarebbe fondamentalmente il fosfato beta e il fosfato gamma, questo fosfato beta e fosfato gamma viene a sua volta idrolizzato in modo tale da avere praticamente due gruppi fosfato e avere una energia, avere una spinta energetica ancora maggiore rispetto alla semplice reazione di adenilazione. Quindi è come se in un certo senso poi questa reazione andasse avanti e abbiamo l'idrolisi del pirofosfato che porta due gruppi fosfato e quindi aggiunta ulteriore di energia, quindi ulteriore appunto energia. Infatti vi ricordo che le energie libere di due reazioni possono essere sommate. secondo la legge di S che avevamo visto in termodinamica l'anno scorso. I gruppi nucleofili che possono effettuare l'attacco all'ATP possono essere l'ossigeno di un gruppo alcolico, di un gruppo carbossilico come nel caso del glutammato o l'azoto della creatinina, dell'arginina, dell'istidina, eccetera. Quindi questi sono i gruppi fosfati, i gruppi nucleofilici che generalmente reagiscono con l'ATP. E le reazioni che avvengono sono quasi tutte sostituzioni nucleofile per l'esattezza SN2. Andiamo avanti e vediamo le reazioni di ossidoriduzione in biochimica perché se il trasferimento di un gruppo fosforico è una reazione fondamentale del metabolismo, anche il passaggio, il trasferimento di elettroni in biochimica è una reazione molto molto diffusa. Infatti, trasferimento di elettroni in biochimica vuol dire ossidoriduzione fondamentalmente, le reazioni che abbiamo studiato negli anni precedenti. Quindi vuol dire che c'è una specie che perde elettroni e una specie che acquista elettroni. Quindi la specie che perde elettroni che diventa ossidata, la specie che acquista elettroni invece che diventa ridotta. Succede quindi che questo flusso di elettroni che c'è appunto all'interno delle reazioni di ossidoriduzione è responsabile proprio del lavoro e dell'energia che viene prodotta negli organismi viventi. È per questo che la stiamo studiando in questa fase. Adesso, il passaggio di elettroni a livello biochimico, a livello biologico può avvenire in quattro modi, in quattro modalità. La prima è con un trasferimento diretto di elettroni e avviene principalmente con molecole inorganiche. La seconda è attraverso il trasferimento di atomi di idrogeno, quindi con una reazione cosiddetta di deidrogenazione, che possiamo vedere da questa parte. Quindi gli elettroni vengono trasferiti sotto forma di atomi di idrogeno, questo perché l'idrogeno è formato da un protone e da un elettrone. Quindi scrivere una reazione di questo tipo vuole dire appunto scrivere un'ossidazione fondamentalmente, perché si perdono due elettroni in quanto si perdono due atomi di idrogeno, che posseggono, ognuno di questi possiede appunto un elettrone. Di conseguenza abbiamo una reazione di ossidazione scritta in questa maniera, e è importante non confondere questo tipo di reazione con quella di dissociazione di un atomo, di un acido, che invece coinvolge il protone, quindi l'attenzione in quel caso è focalizzata sul protone e non sull'elettrone come in questo caso. Per cui vedete che se questa è una reazione di ossidazione possiamo accoppiarla a un composto B per esempio e effettuare una ossidoriduzione. quindi vedete il composto B ha acquistato atomi di idrogeno e quindi si è ridotto. Il composto A ha perso atomi di idrogeno, quindi ha perso elettroni e quindi si è ossidato. La definizione di composto che si ossia e composto che si riduce resta la stessa con la differenza che in questo caso la perdita di elettroni avviene attraverso atomi di idrogeno. Una terza modalità per trasferire elettroni è quella dell'utilizzo degli ioni idruro. Gli ioni idruro dovreste ricordare che sono praticamente dei composti degli atomi di idrogeno che presentano due elettroni e quindi una carica negativa. L'ultima modalità per il trasferimento di elettroni è quella della combinazione con l'ossigeno. Vedete, qui si passa da un idrocarburo che a contatto con l'ossigeno porta alla formazione di un alcol. Quindi in questo caso l'idrocarburo è il donatore di elettroni e l'ossigeno è l'accettore come potete vedere. In generale diciamo che tutte queste forme tutte queste quattro forme di trasferimento di elettroni possono avvenire all'interno della cellula e quando da questo momento in poi parleremo di equivalente riducente vorremmo indicare praticamente quando un elettrone un singolo elettrone partecipa alla reazione di ossidoriduzione. Gli enzimi che catalizzano le reazioni di ossidoriduzione quindi trasferiscono gli elettroni da un substrato a dei trasportatori universali di elettroni i trasportatori universali di elettroni sono il NAD il NADP il FAD e il FMN che possono andare incontro sia ad ossidazione che a riduzione e appunto fungono per questa ragione fungono da trasportatori di elettroni vediamo come funzionano e guardiamo il NAD ma il funzionamento è simile per tutti e quattro partiamo dal NAD più quindi dal NAD ossidato allora si definisce NAD più in quanto se vedete da questa parte abbiamo un azoto con una carica positiva che presenta attorno quattro elettroni quindi uno due tre e quattro con l'aggiunta di due elettroni e due protoni che adesso vediamo da dove vengono fuori abbiamo il passaggio da NAD ossidato a NAD ridotto quindi a NAD H che cosa è successo l'azoto ha perso la sua carica positiva in quanto ha preso un elettrone e infatti se contiamo attorno all'azoto abbiamo cinque elettroni e non più quattro come prima quindi perde la sua carica positiva e in più viene a acquisire un protone che è indicato con il colore blu da questa parte quindi che cosa rimarrà fuori soltanto un altro protone che qui è indicato appunto con H più adesso non fate caso che in questa slide è indicato tipo A e tipo B perché indica il tipo di attacco quindi se da fronte o da retro vedete che da questa parte l'idrogeno blu è con il cuneo e qui con il tratteggio questa è una cosa che però a noi non interessa quindi ne consideriamo uno solo per cui il passaggio da NAD più A NAD avviene fondamentalmente con l'acquisizione con il passaggio di due elettroni e un protone mentre un protone poi va fuori esce per cui la reazione complessiva che si viene a formare è proprio questa che vedete qui in basso due elettroni e un protone altro non sono che un idruro come avevamo detto prima quindi un atomo di idrogeno caricato negativamente che presenta appunto due elettroni e un protone per cui questa è la reazione complessiva andiamo a vedere adesso da dove vengono fuori questi due elettroni e questi due protoni avevamo detto poc'anzi che quando che gli elettroni possono essere trasferiti sotto forma di atomo di idrogeno avevamo fatto un esempio di ossidazione quindi un composto AH2 abbiamo visto come si ossidava perdendo quindi due elettroni e due protoni e questo praticamente è il composto che si accoppierebbe con il NAD più quindi la reazione generale accoppiata redox che avviene con il NAD più per esempio è proprio quella indicata da questa parte quindi AH2 che si ossida diventando A e il NAD che si riduce perché passa dalla forma NAD più alla forma NAD H e poi più un protone H più che appunto resta poi nel solvente nell'ambiente di reazione quindi questa è la ragione per cui il NAD FAD eccetera vengono definiti proprio come trasportatori di elettroni ovviamente questa reazione è all'equilibrio quindi possiamo andare da una parte e possiamo andare dall'altra per cui così come avevamo i composti ad alta energia in questo caso abbiamo questi trasportatori di elettroni che all'occorrenza possono fungere da ossidante o da riducente e gli enzimi che catalizzano questo tipo di reazioni prendono il nome di ossido riduttasi allora questo è tutto per quanto riguarda questa sezione di bioenergetica e metabolismo e poi ci vediamo al prossimo video